Quotazioni metro quadro Caserta e provincia è la nuova pubblicazione realizzata dalla casa editrice Mediapass di Gianfranco Passarelli, Pietro Ciavola e Alessandro Passarelli. L'andamento del mercato immobiliare di Caserta e della sua provincia racchiusa in un volume, iniziativa realizzata in collaborazione con la FIAIP Caserta. Un osservatorio che sottolinea come le compravendite siano perfettamente allineate a quelle del resto d'Italia. Si compra e si vende di più a scapito dei prezzi che risultano livellati lievemente verso il basso. Ascoltiamo il presidente della FIAIP Napoli, Claudio Matarazzo. Mediapass è rappresentata dall'ottimo Gianfranco Passarelli, al quale sono legato da un sentimento di affetto, oramai, perché sono troppi anni che lo sopporto. Dunque a Napoli noi faremo un osservatorio con degli approfondimenti su argomenti che sicuramente susciteranno l'attenzione dei consumatori, perché tutto è rivolto sempre ai consumatori e alla tutela principalmente del consumatore e al buon acquisto fatto tramite un agente immobiliare FIAIP. Quindi un augurio a media, a basse, a quotazioni e un augurio a tutti noi per un buon lavoro. Grazie.